Benvenuti nel canale Fabio Picce. La Domenica italiana è segnata da un profondo dolore, mentre l'iconica conduttrice Mara Venier si commuove per la perdita di Pier Francesco Forleo. Durante la trasmissione di Domenica, in un'emozione incontenibile, ha travolto Venier, che non ha potuto fare a meno di ricordare l'uomo che ha portato gioia e amore nella sua famiglia. Purtroppo Forleo, direttore della Direzione di Ritti Sportivi della RAI, è scomparso all'età di 62 anni nella notte tra l'8 e il 9 giugno 2023. La sua prematura di partita lascerà un vuoto enorme nel cuore di coloro che lo conoscevano e l'apprezzavano. Pier Francesco Forleo, una figura amata e rispettata, sarà profondamente mancato.